Bontà, anche questo sughettino è pronto Beh, me dall'odore non mi sembra molto buono Allora, che ami, eh? Vuoi per caso mettere in dubbio il mio operato? Io ho solo detto che secondo me l'odore non è invitante Tu cosa ne pensi? Sì, in effetti anche per me l'odore non è buonissimo Eh no, eh, un'altra te, no Non posso sopportare tale pressione di nuovo No, mi serve una mano, diamine Alexa Cosa diamo a lui adesso? Eh vabbè, se partiamo così, volevo un aiuto Ti ho già detto altre volte che i tuoi casini te li risolvi da solo Ciao Andrea, eccomi qua, ci sono io Oh Alessandro, almeno tu, dammi una mano Dimmi Andrea, c'è qualche problema? Se mai c'è qualche problema C'è qualche problema? C'è 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 Vabbè Comunque Queste due qua Pensano che il mio sugo non sia buono Mmm Assaggiamo Allora Non è esattamente da dieci Ma dieci 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 Beh, ma, ma Sembra abbastanza buono Ma per me comunque non è buono In realtà questo sugo è una vera merda Ma questo non glielo diciamo Allora, qualcuno qui mi vuol dare una mano con la spesa? Oh cazzo, qui la situazione si fa veramente difficile Meglio che vada Ma Alessandro, ma dove vai? Ma dove vai? Se è appena arrivato dovevi darmi una mano Oh, adesso voglio vedere come tenessi Eh no eh, no eh, no eh, la pressione è troppo alta, no Oh, adesso voglio vedere come tenessi